è una nonna? è una nonna è tutta una nonna a biba 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 fanno una nonna è sto facendo il video viva 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 oh ecco brum brum dove è il microfono qua? si? vuoi sentire? vai brum 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 e biba 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 brum brum eh facendo video eh sì e poi la nonna si ecco wow ci si è spettinata tutta ora sto capendo guarda qua ci si è spettinata tutta viva 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 v panfetta o la panfetta che è bella saluta allora ciao e e da viva viva le zampette fuori le zampette fuori sei inannata sei inannata piccolina piccolina di sei inannata certo però le zampette fuori dalla poltrona e rischi di cascare giù di sotto poi io ci passo qui c'è tutti i pellezzi lunghi quelli sono da tagliare sennò ti danno fastidio domani ci guardiamo ci guardiamo con le forbicine magari torniamo anche qua sei tutti i lunghi sta crescendo molto sotto è tutta pelosetta viva viva pelosetta guarda sta gattina che è una nonna che deve fare la gambe larghe così tutta così stai la luce fa svegliare sarà roba di stare così con la passarina all'aria grazie 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 grazie